ciao ragazzi allora all'ods store ho trovato queste due belle cosette della marca prelibatella ho trovato questa al pistacchio che diciamo è da mettere in considerazione con altre creme al pistacchio e vedere un po' qual è la migliore e devo fare anche questo lavoro e poi ho trovato questa spermabile bianca latte e nocciole bisogna vedere se è cioccolato bianco o meno vi faccio vedere gli ingredienti poi devo vedere come gli ingredienti di questa e poi questo io amo la ritter perché comunque ci sono tanti gusti sono piccoli io amo il bianco e quello al latte poi nocciole intere una bellezza questo invece l'ho preso all'aldi costava erano offerte a 60 centesimi della laica bianco cioccolato bianco 100 grammi una bellezza prodotto da laica spa arona novara questo è il sito web laica.eu e questi sono gli ingredienti così vi fate un'idea all'aldi a poco prezzo io conoscevo già la laica per altri prodotti cioccolatosi e quindi ho preso questo per vedere un po' com'è il bianco ve lo dico subito alcune cose mi erano piaciute e alcune cose no ma perché non mi erano piaciute perché a me il fondente non mi piace comunque devo prendere un po' di creme come queste simili e poi fare le prove a vedere come sono voglio prendere pure le creme spammabili della domori perché mi hanno detto che ce n'è una simile alla nutella e voglio provare e con questo vi saluto ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti